Siamo con il centro a pista del Teramo Messori, questo G6 è rientrato dopo un infortunio. Innanzitutto le prime sensazioni, aver ridurato il campo è fondamentale. Sì, sono tornato dopo un piccolo acciacco muscolare, sono molto contento di essere qua e mi sto cominciando a sentire bene con la squadra e con l'ambiente e speriamo di trovare continuità perché mi serve per crescere e star bene. Il mister ti ha inserito nell'intervallo, avete fatto un ottimo secondo tempo a livello di squadra e hai colpito la traversa, 45 minuti ben giocati da te. Sì, sono contento per la prestazione, però mi dispiace molto perché abbiamo creato tante occasioni e dobbiamo cercare di concretizzarle perché subiamo secondo me poco e le uniche occasioni prendiamo gol, quindi dobbiamo ricompattarci perché appunto sono secondo me due punti persi perché abbiamo un buon obiettivo e dobbiamo cercare di prendere più punti possibili. C'è bisogno di un apporto dei centrocampisti per migliorare questa freddezza sotto porta? No, lavoriamo tutti bene, ci facciamo trovare sempre pronti, secondo me siamo un buon reparto centrocampo, quindi chi gioca gioca so che farà bene.